Allora, siccome Macchione è diventato uno importante, ma soprattutto per chi ama gli animali, perché io vedo tanta gente dare a calci gli animali, dire che schifo, perché solo chi non ha un cane, un gatto, non può sapere l'amore che si prova. Allora, cosa voglio dire? Che Macchione, quando vede le partite del Taranto in televisione e segna il Taranto, si aggrappa alla televisione, che Macchione è molto intelligente come tutti i cagnolini. Allora, Macchione vuole fare gli auguri a tutto il mondo, ma soprattutto, perché gli manca solo la parola, vuole dire forza Taranto e grazie per tutti quelli che gli hanno mandato i saluti. Quindi, da Macchione auguri a tutti, ma soprattutto, forza Taranto!